Di lui non si avevano notizie dal 1994 quando era ritenuto un personaggio di spicco del traffico internazionale di droga che della Germania arrivava direttamente in Campania. Giulio Perrone, 65 anni di Gragnano di Napoli, latitante dal 1998 perché colpito da un ordine di carcerazione messo dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli, dovendo espiare la condanna definitiva a 22 anni di reclusione per associazione a delinguere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, ieri è arrivato all'aeroporto di Fiumicino dove ad attenderlo cerni i poliziotti della squadra mobile di Napoli e dello SCO, il servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Perrone è arrivato dal Messico dove viveva Tampico, roccaforte dei più efferati cartelli Narcos messicani. Lì si era ricostruito una vita nell'anonimato con una nuova moglie e figli messicani. Il latitante è stato localizzato grazie ad un approfondito lavoro del team di analisi degli investigatori italiani con il contributo determinante della Polizia Scientifica, che attraverso Facebook ha scoperto la sua falsa identità. Si chiamava Saverio Garcia Galliero, quest'ultimo vero cognome della madre. Bloccato in Messico nei pressi della sua abitazione, Perrone è stato espulso dalle autorità messicane. Giunto in Italia ieri sera dopo la notifica dell'ordine di carcerazione, i poliziotti hanno condotto il latirante in carcere, dove sconterà la pena.